Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Di politiche monetarie e noi nella nostra commissione chiediamo conto del cosa hanno fatto, perché l'hanno fatto. La Banca Centrale Europea ovviamente è indipendente come tutte le grandi banche centrali dei paesi avanzati e questo consente anche di dare stabilità e un'autonomia rispetto a non piegare le politiche monetarie ai voleri politici o alle comodi politici del governo di turno. Quindi questo è una cosa importante, però è importante che le scelte siano discusse, siano anche messe in discussione, perché non è che è una scienza esatta. Ora siamo in una situazione macroeconomica molto complessa, però la BCE è stretta tra vari fuochi, per cui la BCE in realtà alcuni stanno contestando che rialza i tassi, ma molti altri economisti che noi abbiamo chiamato anche in audizione e anche altri governi contestano l'opposto, cioè che la BCE ha aspettato troppo a rialzare i tassi e li ha rialzati in maniera troppo mite, troppo poco e questo ha consentito all'inflazione di alzarsi tanto. Il vostro servizio diceva che il rialzo dei tassi è uno strumento vecchio, però di fatto è l'unico strumento che ha la BCE. La BCE non ha strumenti di politica economica, la BCE non può intervenire sui prezzi del gas, non può intervenire sul mercato dell'energia, quindi la BCE ha questi tipi di strumenti, li ha usati con grande cautela, ma a un certo punto li ha dovuti usare anche perché la Fed americana, la banca centrale americana, ha alzato i tassi così tanto e così rapidamente che ha causato un indebolimento dell'euro. E questo anche è un problema, quindi ogni decisione ha tante conseguenze che vanno prese in considerazione, quindi se la BCE fosse rimasta ferma si sarebbero alimentate le spinze inflazionistiche e l'inflazione sarebbe aumentata ancora. E oltretutto l'indebolimento dell'euro significa che noi tutta l'energia che compriamo, che già è carissima, siccome la compriamo in dollari, se il dollaro si rafforza noi aumentiamo ancora di più il costo della nostra energia e la nostra inflazione. Quindi la BCE si è trovata stretta tra varie situazioni critiche, sta cercando di navigare un po' a vista, questo secondo me è un po' il problema di adesso, che non abbiamo una visione di lungo periodo perché è difficile vista l'incertezza. Quando l'anno scorso dicevano che l'inflazione è temporanea non l'ha detto solo la BCE, lo dicevano tutti, quindi era un po' un problema, l'IMF, il Fondo Monetario Internazionale, la Commissione Europea, tutti dicevano che era temporanea perché nessuno aveva previsto la guerra. È vero che era iniziata l'inflazione ma si diceva, vabbè, questo è il rientro dal Covid, ancora bisogna un po' rirodare, ci sono finite le scorte, mancano un po' di prodotti ma riprenderemo a regolarizzare. È arrivata la guerra e tutte queste strozzature, come si dice, nelle forniture si sono amplificate. In più la crisi energetica ha aggravato l'inflazione, questo purtroppo non era prevedibile da parte di nessuno. Ora ci vuole una grande cautela, quindi anche io credo che la BCE debba essere molto cauta, io sono un po' in quel gruppo di persone, però mi rendo anche conto che non è semplice anche perché poi, per esempio, in America c'è la Banca Centrale Europea che ha gli strumenti soliti della Banca Centrale, i tassi di interesse, però c'è un governo federale, uno solo, che fa le politiche economiche e fiscali. In Europa c'è una Banca Centrale Europea che fa le politiche monetarie, però poi ci sono 27 politiche economiche e fiscali diverse perché l'Unione Europea non ha un governo unico, quindi coordinare queste misure per noi è molto delicato. Chiarissimo, vi chiedo a Gasparri un flash da adesso prima di...